Barbara Rita Tarantino, pubblicato da Europa Edizioni nella colonna Cronos. Questa è la storia di una mamma che ha vissuto il dolore dell'ellica per il suo figlio. È racconto di una famiglia e del suo amore incosizionato, capace di superare le barriere imposte dalla nostra società. Questa è la testimonianza di un riscatto, del percorso che grazie alla volontà di persone straordinarie conduce dal silenzio fino ai suoni, alle voci del mondo, ma soprattutto una storia di grande umanità, che vuole riflettere su cosa rappresenti la normalità e cosa invece la presunta diversità, anche osservate dal punto di vista di un ragazzo che di entrambe ha saputo riflettere, sostenuto dall'affetto dei suoi genitori e dei suoi nonni.